Si tratta di un intervento di messa in sicurezza di uno dei tratti stradali più importanti della frazione di Lucrezia, vale a dire via Circonvale-Sonne-Kennedy. Abbiamo iniziato con la realizzazione di importanti camminamenti pedonali che ci hanno consentito anche di integrare ulteriormente, di incrementare ulteriormente la rete di camminamenti pedonali con il resto di altre aree della frazione di Lucrezia. E per di più si è cercato anche di centrare altri due obiettivi molto importanti per ciò che concerne questa intersezione stradale, cioè l'intersezione tra via Circonvale-Sonne-Kennedy, via Marsala e via Pilone. Vale a dire la riduzione sensibile o perlomeno si auspica sensibile della velocità con cui purtroppo gli automobilisti si ostinavano a transitare lungo per l'appunto via Circonvale-Sonne-Kennedy, ma anche tenendo conto del fatto che via Marsala, cioè dove ci troviamo in questo momento, una via seppur chiusa, è la via d'accesso e ovviamente anche di uscita rispetto alla nuova scuola dell'infanzia, il Piccolo Principe, che è stata inaugurata nel dicembre 2017. Quindi questo significa aver incrementato non di poco il traffico che caratterizza questa strada e occorreva intervenire per mettere in sicurezza l'accesso, ma come dicevo prima, soprattutto anche l'uscita da via Marsala su via Pilone e su via Circonvale-Sonne-Kennedy. I lavori che stanno richiedendo purtroppo oltremodo tempo rispetto a quello che avevamo preventivato, anche l'iter di approvazione del progetto esecutivo è stato abbastanza lungo, dal momento che abbiamo dovuto richiedere anche tutti nulla osta a RFI, che ci ha richiesto soltanto questa parte dell'iter amministrativo di approvazione del progetto all'incirca un anno, però contiamo ormai di camminare speditamente verso l'ultimazione dei lavori che sono sicuro riqualificheranno non soltanto esteticamente, ma soprattutto funzionalmente, sulla base di quello che ho detto prima, questa intersezione così molto importante per il centro abitato della frazione di Lucrezia.